TAMI EBRAHAM Col da attaccante di razza Qui lo stacco è stato perfetto Così come la direzione della zuccata del numero 9 Super gol Grande apertura per Reza in area Reza! Arkadius, Reza 1-0 Spezia La confezionano Due difensori Grande discesa di Ampadu Che vede Reza Era rimasto su E fa male Colpisce Arkadius Reza Molto bravo Ampadu Libero qui Reza Resta dietro Pereira Allora sfrutta questa libertà Per fare 1-0 Di Lorenzo Lancia in profondità per Lozano che allunga Arriva prima di Parisi Lo salta, prova a mettere in mezzo Per Ozy E invece arriva Zelensky Che di prima intenzione Batte Vicario e chiude la partita Lozano decisivo Prima il calcio di rigore realizzato Poi il movimento a disorientare Parisi Cross in mezzo Per Piotr Zelensky che anticipa Stojanovic E fa 2-0 Gol molto bello Da parte del 20 del Napoli Infatti pagano i cambi di Spalletti Malinowski Uno sguardo dall'altra parte Sapata controlla Sapata Rimette in partita l'Atalanta Duvan Sapata Si sblocca Grande idea di Malinowski Occhi negli occhi con Falcone Non sbaglia Duvan Ringrazia così il compagno per l'assist Bellissimo l'attraversamento pedonale Disegnato da Ruslan Malinowski Palla ancora per Buonaventura Poi Saponara Prova a girarsi Jovic Posizione regolare Jovic Fiorentino in vantaggio E gol Il vantaggio della Viola Con Jovic Saponara che Si prende la sua dose di applausi Avendo sfornato lui l'assist Luka Jovic Appena portato in vantaggio La Fiorentina E gol importante per il 24enne Ex Real Madrid Controlla Jovic E poi batte A rete Dove Seppon non può intervenire E quindi Grazie a tutti A rete Grazie.